Ciao ragazzi, mando un messaggio a tutti gli abbonati, intanto vi ringrazio per queste settimane di supporto continuo, in tanti mi hanno scritto, sono arrivati anche delle donazioni extra, vi ringrazio veramente di cuore, grazie per mantenere il vostro flusso, purtroppo sono in un pericolo in fondo al tunnel, in fondo al pozzo più che al tunnel, perché non ho la connessione, quindi qui a casa è penosa, OpenFib promette ma siamo fermi da mesi, il laboratorio FastWeb ha alzato le mani, quindi non riescono a trasferire la linea da Casaletto a Milano, ci sono problemi tecnici, burocratici dicono, quindi dopo due mesi abbiamo disdetto, sono senza internet anche lì, quindi non c'è connessione e tra l'altro non funziona neppure il telefono, perché la zona non è coperta, anche da un win c'è un disservizio, quindi è veramente una pena, cercherò in qualche modo di crearvi qualche contenuto che magari pubblico offline e ve lo dedico, sto per preparare qualcosa su Java, SQL, non so se è di vostro interesse, in questo periodo, un mese veramente terribile, mi piacerebbe farvi vedere il calendario per vedere quanti impegni ho avuto e come era pieno il mese che è appena passato e le ultime settimane, ho avuto tre giorni di lezione a settimana, il laboratorio da seguire, il libro d'arduino da riscrivere e comunque il flusso video da tenere comunque attivo e vivo, sono sopravvissuto, adesso dovrei avere un pochino più ossigeno e riuscire a dedicare un po' più tempo al canale, e a voi che mi supportate e mi date una mano. Bene, grazie ancora di cuore e ci vediamo presto, spero con buone notizie. Ciao, a presto e grazie.